Ancora una volta Citroën si avvicina al mondo della moda e lo fa con stile ed eleganza. Nella Fashion Week milanese la casa francese ha presentato in anteprima mondiale DS3 Cabrio Womo Vogue, un esemplare unico caratterizzato da colori e allestimenti raffinati realizzato assieme all'atelier Vanulle, maestro artigiano. Questa DS3 Cabrio esclusiva verrà battuta all'asta e il ricavato sarà interamente devoluto a Women Create Life, progetto sviluppato dalla World Health Organization, agenzia delle Nazioni Unite che sostiene e promuove attività capaci di migliorare le condizioni di donne e bambini. Abbiamo deciso che dovevamo fare un'operazione anche per enfatizzare il lancio. Per enfatizzare il lancio, un'auto di questo tipo, un'auto che rappresenta per noi il savoir-faire francese, il lusso alla francese, il mondo premium di Citroën e dovevamo sposarla con il meglio della moda maschile. Il meglio della moda maschile in Italia e nel mondo è l'uomo vogue.